questa ricetta prende spunto da un piatto che abbiamo assaggiato sulle rive del mare salentino prepariamo degli involtini di mare ripieni di sgombro e capperi e aggiungiamo anche le olive snocciolate e tritate diamo un po di spinta aromatica con delle scorze di agrumi e qualche foglio di basilico spezzettata a mano un po di pepe nero da mulinello e leghiamo con un filo d'olio extravergine ricaviamo delle fette sottili dal trancio di tonno e poi andremo a batterle leggermente tra due fogli di carta forno mettiamo un cucchiaino di ripieno sulla fetta di tonno e la arrotoliamo ad involtino prepariamo la marinata emulsionando un po di succo di limone con olio extravergine un pizzico di sale la mettiamo su un piatto fondo e ci adagiamo dentro gli involtini e per un impiattamento molto estivo scegliamo un piatto in coccio lo ricopriamo con delle fette di agrumi adagiamo gli involtini e li irroriamo con la marinata pita Grazie a tutti.